Qui a Geeta è una città di grande emozione. Dopo il festival, il campionato del mondo di sculture di ghiaccio. Certo, una prova. Andiamo a vedere, sempre continuando con i progetti di stagionalizzazione, in una città di mare. Durante la primavera realizziamo questo campionato del mondo di sculture di ghiaccio. 14 artisti che vengono da tutto il mondo. Anche qui, grandi emozioni, che poi culmineranno sabato sera con lo spettacolo della Fontana in San Francesco, dove ci sarà una performance dedicata alla pace e quindi che termineranno con, appunto, i campionati del mondo di sculture di ghiaccio la giornata di domenica. Quindi vi aspettiamo tutti a Geeta a vivere ancora tantissime emozioni. Questa notizia ti lascerà di ghiaccio. Torna a Geeta, l'Ice Carving World Championship. Il favoloso campionato di sculture di ghiaccio con 14 artisti provenienti da tutto il mondo. Il 9 e il 10 aprile, in Piazza della Libertà, si terrà la finale dell'Ice Art Championship Città di Gaeta. Sabato 9 alle ore 20. Non perdere anche il suggestivo spettacolo di luci e suoni della Fontana di San Francesco. Visto? A Gaeta c'è sempre una nuova emozione. Scegli la anche per le tue vacanze pasquali. Grazie a tutti.